siamo pronti per scoprire un nuovo libro di narrativa per ragazzi stavolta sfondo sportivo si intitola fuggis football club scritto a quattro mani da una coppia di autori igor de amicis che è uno scrittore per vocazione visto che è un commissario di polizia penitenziaria e paola lociani che è un insegnante della primaria nonché un'autrice diciamo di molti libri di narrativa per ragazzi si tratta di un libro che parla appunto di un gruppo di ragazzini di un paesino anzi di una frazione nei pressi di un comune pugliese e questi ragazzi sono un gruppettino una squadra che l'anno prima ha preso una solenne diciamo asfaltata da una squadra nel torneo locale il torneo di san gregorio sono usciti al primo turno battuti 1 a 6 e quindi sono ben decisi ad allenarsi nel loro campettino scarcinato di periferia a cui si accede da un buco nella rete di recinzione per essere diciamo diventare una squadra un po più in forze e riuscire appunto a migliorare il loro risultato dell'anno scorso il che sarà eh estremamente probabile visto che sono usciti sui ma quando arrivano nel campettino di periferia scoprono che dentro c'è una congrega di ragazzi e quindi nasce nasce un diverbio soprattutto tra il capo il capitano di questa squadra eh di ragazzi che vogliono vincere il torneo di san gregorio paolo e i med il ragazzo di questa variopinta congrega di ragazzi che ha già occupato il campo che alla fine arrivano testa contro testa a guardarsi male il ragazzo italiano e quello di colore che sarebbe appunto imet si ritrovarono faccia a faccia erano altri più o meno uguali ma uno aveva la pelle chiara e i capelli biondi arruffati l'altro era nero come la notte con i capelli corti e crespi si guardarono negli occhi con aria di sfida lui cino che sarebbe il portiere negatissimo del gruppo di paolo è talmente negato che di solito ha paura di prendere pallonate in faccia e quindi eh non cerca di prendere il pallone quanto di sta di stargli lontano ehm luigino corse rapido verso paolo qui la faccenda si stava facendo incandescente hello hello ah in luigino how are you perché lui ha la mamma inglese e cerca di parlare con questi ragazzi eh utilizzando appunto eh l'inglese ma che diavolo che cavolo sta dicendo penso Paolo prima di ricordarsi che la mamma di luigino era inglese quindi lui lo parlava perfettamente il più piccolo della squadra cominciò un dialogo fitto fitto prima con il capo del gruppetto poi a mano a mano che si avvicinavano con tutti gli altri ragazzi di colore gli italiani guardavano stupefatti luigino come portiere era una schiappa e non mancavano mai di prenderlo buonariamente in giro e vederlo destreggiarsi con padronanza in una lingua che loro non capivano era incredibile Paolo afferrò solo qualche singola parola in inglese a scuola aveva una quasi sufficienza molto stiracchiata insomma un cinque fisso poco dopo meno di dieci minuti di chiacchiere ininterrotte qualche sorriso di luigino una mezza risata del ragazzo alto e tutti gli italiani che annuivano senza capire il loro amico si portò allora e come pensavo sono i ragazzi del centro d'accoglienza li hanno trasferiti qui da un altro centro una settimana fa oggi avevano il pomeriggio libero e hanno pensato di venire a giocare a pallone lui penso sia il capo si chiama Imet e viene dal Sudan e dove sta il Sudan chiede distinto Mattia e che ne so io di battere luigino da qualche parte in Africa penso sì vabbè tutto molto interessante lezione di geografia compesa ma ci serve il nostro campetto disse nervoso Paolo sì ecco appunto Imet mi diceva che siccome sono arrivati prima loro finiscono la partita e noi possiamo giocare dopo giocare dopo non esiste proprio è già tardi tra poco viene buio e noi rischiamo di saltare l'allenamento Paolo era già pronta ad andare su tutte le furie ma luigino precedente o in alternativa aggiunse misterioso in alternativa dice che potremmo fare una partita una sfida noi contro di loro chi vince si tiene il campetto anche per i prossimi giorni che ne pensi Paolo era dubbioso quello era il loro campetto loro e di nessun altro e non gli andava giù l'idea che quelli venissero fin dall'Africa per metterlo in discussione perché non se ne erano rimasti a giocare a casa loro in mezzo al deserto alle palme dove altro stavano il ragazzo tentennava non voleva cedere ma non voleva nemmeno che pensassero che avesse paura di perdere Mattia il fido consigliere il braccio destro si avvicinò sussurandogli all'orecchio e comunque sarebbe un ottimo allenamento in vista del torneo Paolo sbarro gli occhi a questo non c'era pensato si avvicinò deciso a Imet con sguardo duro e concentrato allungò una mano il ragazzo di colore la strinse sfida accettata e iniziano a giocare i ragazzi italiani si disposero in campo Paolo e Mattia pronti a gettarsi in attacco Luca e Nicola in difesa e luigino ovviamente in porta nel lancio della monetina a loro toccò la scetta del campo ai ragazzi di colore la palla Paolo notò subito che Imet si era posizionato sul pallone pronto a dare il primo tocco e scattare in avanti era chiaro che anche lui era un attaccante come Paolo il ragazzo italiano sentì un brivido di accettazione correre gli lungo la schiena l'idea di quella partita cominciava a piacergli ed era determinata a difendere l'onore della sua squadra della Puglia dell'Italia intera e e poi soprattutto ripoleva subito il suo campetto i ragazzi italiani e stranieri si guardarono l'un l'altro in un lunghissimo istante di silenzio poi Lucino dai pali della sua porta lanciò un fischio acuto che riecheggiò nell'aria la partita era cominciata Imet passò il pallone al ragazzo tutto pelle e ossa e come Paolo aveva immaginato scattò rapido in attacco il ragazzo magrolino fece un paio di giochetti con la palla finta e controfinta all'improvviso crossò a centro per il suo compagno la squadra degli italiani fu completamente disorientata da quell'inizio così veloce e si fece sorprendere Luca e Nicola rimasero immobili mentre Imet saltava in alto così in alto che sembrava non voler mai scendere colpo di testa gol 1 a 0 per i rifugiati i ragazzi di colore risultarono e l'autore del gol si esibino la velocissima capriola con tanto di saltello finale Paolo sconsolato si mise una mano in faccia scoprendosi gli occhi come mi è venuto in mente di trovarmi questi compagni di squadra ma subito si ricordò dei suoi doveri di capitano doveva motivare la squadra ed era determinata a farlo dai dai ragazzi non è successo niente dobbiamo organizzarci tattica tattica noi italiani siamo maestri della tattica Luca Nicola mi raccomando marcatelo a uomo per gli altri non vi preoccupate rientrammo io e Mattiere tu luicino beh tu fai quello che puoi il capitano si mise sulla linea di centrocampo pronta a riprendere il gioco Imet gli lanciò uno sguardo di sfida accompagnato da un sorrisetto ironico Paolo sentì un moto di rabbia saltare di dentro ma decise di rimanere lucido e professionale come il migliore dei calciatori passò il palla a Mattiere si spostò sulla fascia il suo amico si esibì in un dribbling perfetto che mandò a spasso l'avversario e poi appassò veloce a Paolo triangolazione stretta tra i due mentre Luca e Nicola salivano a centrocampo e il luicino li incitava dalla porta il capitano avanzò pallampiere ma davanti a lui si parò Imet determinato a fermarlo il ragazzo di colore indietreggiava a piccoli passi tenendo lo sguardo fisso sulla palla e cercando il momento migliore per togliere l'italiano Paolo fece una prima finta una seconda doppio passo poi infilò la palla tra le gambe dell'avversario tunnel scattò rapido per aggirarlo lieve tocco per allungare il passo dietro uno sguardo veloce alla porta e poi scagliò il migliore dei suoi voli un diagonale potentissimo il portiere non lo vide nemmeno arrivare il pallone si infilò nell'angolino in alto della porta stracciando quel poco di rete che ancora era rimasta perché come vi ho detto è uno scalcinato campo di periferia non come quello che ho dietro che potete immaginare quale potrebbe essere 1 a 1 e per di più con un gol da grandissimo campione ma Paolo non risultò nemmeno si invitò a corricchiare disinvolto verso il centrocampo come se quella per lui fosse ordinaria amministrazione in realtà dentro di sé si sentiva esplodere d'orgoglio in compenso furono i suoi amici a risultare Mattia gli saltò al collo Luca e Nicola gli dietro le 5 e Luicino beh Luicino cominciò a strillare come uno sesso saltando tra i pali Paolo e Imed si ritrovarono di nuovo a metà campo occhi negli occhi stavolta lo sguardo del ragazzo di colore non era più di presa in giro ma rispetto fece un lieve cenno di approvazione con la testa e Paolo si trovò su malgrado a rispondere con lo stesso gesto adesso avevano messo le cose in chiaro adesso sapevano chi erano i campioni delle due squadre la partita riprese palla rifugiati ma stavolta il ritmo era più lento entrambi i gruppi avevano capito che di fronte avevano dei validi avversari e non volevano correre rischi cominciò un'intricata serie di passaggi al centrocampo con gli italiani che rientravano in difesa Luca e Nicola non perdevano d'occhio neanche per un istante Imed Mattia si appiccicò al ragazzo Macrorino ingaggiando un duello fatto di finte e dribbling velocissimi Luicino non sapeva da che parte guardare aveva il terrore di vedersi arrivare in faccia una pallonata come quella che aveva tirato il suo capitano Paolo invece era pronta a ripartire in avanti per il secondo gol la partita era equilibrata tutti italiani rifugiati stavano dando il massimo corri vai vai non ti fermare marca lo stretto urlava Luicino dalla porta a chiunque gli passasse vicino passa passa lancia lungo ribatteva Paolo a ogni rilancio anche i rifugiati si incitavano fra di loro ora con qualche parola in inglese ora in francese ora in qualche lingua che Paolo non aveva mai sentito anche se in un paio di occasioni gli era sembrato di sentire parlare italiano ma come era possibile quelli venivano dall'altra parte del mondo da un altro continente i ragazzi correvano a perdiciato dietro ogni pallone e persino Luicino era miglioriosamente riuscito a parare un paio di tipi uno degli africani che indussava un cappellino verde con la visiera girata si era esibito in un pallonetto dalla lunga distanza un cucchiaio alla totti che sembrava destinata a insaccarsi ma una provvidenziale traversa aveva salvato il risultato salvi per un pelo Paolo di Lonzo Spiro di sollievo prima di scattare di nuovo l'attacco contro piede rapido di Mattia servito da Nicola passaggio filtrante a centraire tocco per lo dato del capitano portiere battuto 2 a 2 2 a 1 scusate per gli italiani doppietta di Paolo che stavolta non riuscì a trattenersi ed esultò con il pugno alzato al cielo ma la partita non era finita i rifugiati non avevano la minima attenzione di arrendersi tutti cercavano di marcare Imed e togliergli il pallone questo lasciava gli altri ragazzi di colore liberi di scorrazzare al loro spiacimento per il campo il ragazzo magrolino era un fulmine drippi in velocissimi in pazzi stretti il pallone che sembrava incorrata a piede persino Mattia che era il giocatore più tecnico della sua squadra andò a vuoto nel tentativo di fermare il secchetto lo saltò in velocità e si trovò davanti a Luicino e ovviamente Luicino non capì neanche cosa era successo la palla finì in rete e loro erano di nuovo in parità 2 a 2 ma come finirà questa partita perché a questo punto comincio a essere curioso anch'io ma forse forse è ora di smettere e forse è ora che voi vi dedichiate alla lettura oppure potreste giocare a pallone o leggere Fujis Football Club a voi la scelta grazie mille grazie mille